Stop all'impianto di compostaggio, salta la raccolta dell'umido. L'impianto di contrada Brucazzi si è fermato perché non riesce a sostenere il conferimento dei comuni del lato. Stanotte è saltata la raccolta dell'umido e in molti quartieri residenti, informati soltanto in tarda serata, hanno lasciato i rifiuti dietro la porta di casa. Questa mattina una nuova reazione al calendario con l'indifferenziato che verrà raccolto il sabato. Una holding pugliese interessata al progetto Ciliegino. Tra i gruppi interessati a rilevare le aree del progetto Ciliegino mai realizzato da Agroverde c'è la holding pugliese Fortore che diverse settimane fa ha inoltrato una proposta al sindaco Lucio Greco. Dal primo cittadino che intanto ha annunciato l'intenzione del comune di acquistare tutti i terreni non sono ancora arrivate risposte ai manager del Fortore che tornano a chiedere un incontro. Domenica di paura sul litorale, tre persone hanno rischiato di annegare. Operazioni di salvataggio degli assistenti bagnanti della Poseidon nel tratto di mare tra l'ex Lido Eden e la Conchiglia. La formazione del cosiddetto mulinello ha rischiato di trascinare sul fondo due donne ed un bambino in due diversi episodi. L'appello della cooperativa Poseidon ai bagnanti è sempre lo stesso, non allontanarsi troppo e fare attenzione alle boe rosse che segnalano le zone di pericolo. Ricerca idrocarburi sì ai permessi per Eni. Sono arrivati alla firma del Ministero dell'Ambiente Sergio Costa i progetti per nuove attività di ricerca di idrocarburi sul territorio. Si tratta dei permessi Passo di Piazza e Fridani. Enimed ha in programma un vasto programma di prospezione per sondare l'eventuale presenza di idrocarburi in sottosuolo. Gelas, un parere legale per la cabina di progettazione. L'amministrazione comunale vorrebbe concentrare una cabina unica di progettazione nella struttura di Gelas, la multiservizi dell'ente. C'è l'ipotesi di affidare anche altre attività. L'amministratore Francesco Trainito si è rivolto ad un legale, esperto in materia di partecipate. Verrà valutato se lo statuto consenta soluzioni di questo tipo. Ben trovati con l'informazione su TeleGela e Quotidiano di Gela. Oggi è lunedì 3 agosto, inizia quindi un'altra settimana. E che non inizia proprio nel migliore dei modi perché stanotte è saltata la raccolta dell'organico, dell'umido perché si è fermato l'impianto di compostaggio in tutti i comuni dell'ambito del lato CL2 perché non si riesce più a sostenere il conferimento di questa frazione. E in molti quartieri, cittadini dove l'informazione è arrivata in ritardo, l'ordinanza è infatti stata emessa soltanto ieri pomeriggio, i rifiuti sono rimasti proprio dietro casa. E oggi una nuova variazione al calendario con l'indifferenziato che verrà raccolto il sabato. L'impianto di compostaggio di Contrada Brucazzi non riesce più a sostenere il carico di conferimenti che arrivano da tutti i comuni del lato. Il responsabile tecnico Sergio Montagnino ha disposto lo stop ai conferimenti con una nota ufficiale inviata ieri anche alla SRR4 e ai comuni. Oggi sia Montagnino che il commissario liquidatore Giuseppe Panebianco si presenteranno di missionari dell'Assemblea Ato. Intanto è stato disposto il fermo dei conferimenti. Da circa un mese, anche a seguito di una recente ordinanza comunale, il sistema riceve una portata di conferimenti secondo i tecnici non più gestibile. Di conseguenza anche a Palazzo di Città è scattata l'allerta. Oggi è saltato il turno di raccolta dell'organico ma la comunicazione girata ieri sera non è arrivata a tutti i cittadini, cosicché in molti quartieri i sacchetti dell'umido sono rimasti dietro la porta. Ci siamo ritrovati in una situazione emergenziale per via delle già lamentate criticità per quanto riguarda il contingentamento degli impianti di compostaggio. Questo è un problema che coinvolge non solo noi come Comune di Gera ma purtroppo l'intera regione. Quindi noi dal canto nostro ci stiamo pure preoccupando per cercare di dare utile soluzione a questo problema anche attraverso uno studio di fattibilità che ci consentirà da qua a breve, sempre circa un annetto, davvero un impianto funzionante che consentirà anche oltre a superare le problematiche di consentire all'amministrazione comunale di trarne anche un utile profitto da questo impianto. Per affrontare l'emergenza è stato modificato il calendario, l'indifferenziato sarà raccolto sabato e non martedì, mentre domani si potrà conferire carta e vetro. Noi già da domani, quindi spero che tutti i cittadini facciano il tesoro di questo clima di emergenza che coinvolge un po' tutti, da domani noi avremo la raccolta di carta e vetro, quindi sono due raccolte separate in maniera tale da portare la raccolta dell'indifferenziato che ripeto è solo secco residuale, l'indifferenziato è solo secco residuale e non quello per cui noi andiamo a conferire al tutto. Il secco residuale noi lo porteremo nel giorno di sabato, per il resto poi il calendario non subirà alcuna altra modifica, se non fosse altro che lo dobbiamo adottare purtroppo in via emergenziale, quindi già da domani ci sarà questa modifica e si spera anche di divulgare, anche farci ciascuno di noi portavoce in modo tale da fare in modo che ciascun cittadino possa arrivare per tempo a metabolizzare questa nostra richiesta. Il calendario non è definitivo perché occorre verificare cosa accadrà nelle prossime settimane in attesa che il Comune si doti di un proprio impianto di compostaggio autonomo. Questo calendario innanzitutto nasce dalla necessità di poter piazzare soprattutto la frazione organica e essendo chiuso l'impianto di compostaggio di gela per cui noi il conferimento l'avremmo dovuto fare sabato, l'impianto invece di Calt ci consente di conferire un quantitativo seppur modesto il giorno di venerdì, quindi noi per recuperare questo giorno e poter fare un utile conferimento noi abbiamo dovuto apportare questa modifica. Sarà sicuramente suscettibile anche di una variazione, però al momento non vediamo altra utile soluzione che non questo calendario e poi cercare di renderlo più perfettibile nel proseguo. Cambia dunque il calendario della differenziata che rimarrà in vigore fino al prossimo 8 agosto se non sarà però necessario apportare altre modifiche, sarà proposto nelle settimane successive. Lunedì sarà raccolta la frazione organica, martedì la doppia raccolta di carta, cartone e vetro da conferire separatamente, mercoledì la raccolta organica, giovedì la frazione di materiale multileggero ovvero imballaggio di plastica e lattine, venerdì ancora organico, sabato la raccolta di secco residuale ovvero l'indifferenziato. Il calendario dei food e delle grandi utenze non subirà invece alcuna variazione. Intanto il sindaco ha annunciato la firma di un protocollo con ANAC e Prefettura che dovranno verificare le fasi della gara d'appalto coordinata dalla SRR e portata avanti dalla centrale unica di committenza. Prima però bisognerà arrivare ad una modifica del capitolato delle procedure ponte da un anno chiesta dal prefetto Cosima Distani che comunque sembra molto lontana. Non si esclude che l'attuale RUP possa lasciare l'incarico e il protocollo firmato dal sindaco varrà per 12 mesi e l'ente potrà anche risolvere l'eventuale contratto se dovessero emergere inchieste ed eventuali misure nei confronti dell'azienda aggiudicataria. Cambiamo argomento perché c'è una holding pugliese che è interessata al progetto Ciliegino, un progetto che è rimasto ormai arenato. Tra i gruppi interessati c'è appunto questa holding pugliese che da diverse settimane ha inoltrato una proposta al sindaco e quindi al comune dal primo cittadino però intanto che ha annunciato l'intenzione di acquistare tutti i terreni come abbiamo già detto più volte negli scorsi notiziari non sono ancora arrivate risposte ai manager che tornano invece a chiedere un incontro. La linea dell'amministrazione comunale sul futuro del polo ciliegino l'ha illustrata il sindaco Lucio Greco. L'ente vuole acquistare i terreni espropriati in passato con un tesoretto da 3 milioni di euro per poi metterli a bando attraverso una procedura europea. I gruppi del settore che negli ultimi tempi hanno pubblicamente manifestato l'interesse a subentrare non mancano. Tra questi c'è Fortore Energia S.p.A. La holding pugliese vorrebbe rilevare terreni e progetto dando vita ad un nuovo polo. Secondo quanto prospettato verrebbero assicurati almeno 400 posti di lavoro più l'indotto. Nelle scorse settimane è stata inviata una richiesta ufficiale al sindaco Lucio Greco che però continua a non rispondere come spiega Luigi Mistretta della Electric Energy Group che segue gli interessi di Fortore sul progetto ciliegino. Secondo Mistretta infatti anche la soluzione di acquistare i terreni da parte del comune non è un'ipotesi favorevole soprattutto per le casse dell'ente. Inoltre sono passaggi che secondo Mistretta richiederanno anni prima di concretizzarsi anche rispetto ad un'eventuale gara a livello europeo. Da Fortore cercano di capire per quale ragione il sindaco non abbia dato risposta alle loro richieste. Adesso verrà inoltrata una nuova istanza per avere un incontro con il primo cittadino. Non mancano neanche dubbi sulle scelte che l'amministrazione comunale sta assumendo in questo periodo. Il sospetto è che probabilmente si voglia favorire qualche gruppo del settore. Tutti dubbi che vengono sollevati proprio da Mistretta in attesa di risposte dal municipio. Il sindaco ha anche richiamato il giudizio arrivato dai tecnici della regione che appoggerebbero la soluzione di un intervento diretto del municipio nella procedura. Negli anni sulle esorti del maxiprogetto agrofotovoltaico mai veramente partito si sono addensate nubi di ogni tipo mentre gli espropriati attendono ancora le indennità. La cronaca il ventenne Davide Ferracana è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essersi introdotto all'interno di un laboratorio di analisi. Come vediamo in queste immagini in piazza Calvario il malvivente era stato arrestato la scorsa settimana dagli agenti del commissariato di polizia e godeva del solo obbligo di firma. La procura aveva richiesto il divieto di dimora pare avesse rubato un cappello di paglia che indossava tranquillamente mandando in frantumi il vetro di un'auto che era parcheggiata sul lungomare. A sorprendere ieri il ladro in flagranza di reato sono stati due carabinieri il vicebrigadiere Domenico Lionti e l'appuntato Domenico Giunta il cui intervento è stato sollecitato grazie alle guardie giurate e la Sicur Transport che sono intervenuti per primi. Altri due complici si presume siano riusciti invece a far perdere le proprie tracce. I militari dell'arma hanno rinvenuto anche la refurtiva restituita al legittimo proprietario che ha voluto ringraziare con un messaggio i carabinieri. Gli inquirenti stanno lavorando per cercare di risalire agli altri complici dell'arrestato che resta comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria e probabilmente sarà interrogato nelle prossime ore. Adesso parliamo invece di un'altra vicenda che si è verificata ieri fortunatamente che è andata bene senza conseguenze. Operazione di salvataggio degli assistenti bagnanti della Poseidon nel tratto di mare tra l'ex Lido Eden e la Conchiglia. La formazione del cosiddetto mulinello ha rischiato infatti trascinare sul fondo due donne ed un bambino in due distinti episodi. L'appello della cooperativa ai bagnanti rimane sempre lo stesso, non allontanarsi troppo dalla battigia e fare attenzione alle boe rosse che segnalano le zone di pericolo. Una domenica di sole e mare ha rischiato di trasformarsi in disavventura per due donne ed un bambino, finite in balia di onde e correnti marine pericolose. L'intervento provvidenziale di due assistenti bagnanti della cooperativa Poseidon ha evitato che le tre persone venissero risucchiate dal turbinio dell'acqua marina. Il primo episodio nel tratto di spiaggia tra l'ex Lido Eden e la Conchiglia. L'acqua in quella zona diventa più alta improvvisamente e la corrente mette in difficoltà chi non è esperto nuotatore. Il primo episodio pericoloso è accaduto nella mattinata di domenica. Una donna si era all'ondata di pochissimo come vedete da queste immagini, proprio accanto la Boa Rossa che non sembra assolutamente una zona di pericolo però lì c'è proprio un mulinello, una corrente assolutamente rischiosa che ha trascinato la donna al suo interno. L'acqua diventa profonda e ha iniziato ad annaspara. A quel punto è intervenuto l'assistente bagnante della Poseidon. Una signora è stata trascinata all'interno del mulinello, all'interno di un'area molto pericolosa vicino agli scogli. Il mio collega è riuscito a intervenire prontamente, con il Baywatch l'ha tirata fuori. È stata una situazione molto pericolosa anche per gli altri bagnanti che per tirarla fuori, per salvarla, si sono fatti trascinare anche loro dal mulinello, quindi comunque sia non è un pericolo da sottovalutare. Nel pomeriggio una scena simile, protagonista ancora una donna, rimasta in balia del cosiddetto mulinello con correnti molto ventose. Il richiamo di alcuni bagnanti e il tuffo in mare di un bagnino, che era in servizio nella torretta di controllo, ha scongiurato ogni pericolo. Alla fine tanta paura, ma il consiglio è quello di rimanere prudenti. Il consiglio è quello di prevenire, qualora i bagnanti dovessero notare una situazione di pericolo, appunto avvisare subito gli assistenti bagnanti in modo tale che possano intervenire. Sono tre le torrette di controllo della Poseidon posizionate a lungomare, a Macchitella ed a Manfria. La raccomandazione è quella di affidarsi sempre agli esperti. Le boe rosse sono il primo segnale di pericolo. Abbiamo delimitato quell'area con una boe rossa, nonostante gli avvertimenti i bagnanti li hanno ignorati e quindi è accaduta questa situazione. Quindi se tutti rispettassero l'ordinanza balneare e fossero prudenti in mare non ci sarebbe bisogno di intervenire. Sette distretti turistici dell'isola hanno costituito la ATS Sicilia Iceland con l'obiettivo di fare rete, diversificare l'offerta e conquistare nuove fette di mercato dopo la crisi legata alla pandemia. Questa associazione temporanea di scopo raccoglie infatti soggetti pubblici e privati tutto il territorio regionale già aderenti al partenariato costituito un anno fa per l'attuazione del progetto Le Porte del Paradiso, un'azione che si inserisce nel nuovo percorso intrapreso dall'assessorato regionale al turismo della nuova ATS Sicilia Sicilia Iceland. Fanno parte i sette distretti turistici regionali, antichi mestieri, Dea di Morgantina, Monti Sicani, Valle dei Platani, Selinunte, il Belice e Sciacca Terme, sud-est, Valle dei Templi, Vinici Apollo di Sicilia, il Parco archeologico di Gela, il Parco di Selinunte, le Cave di Cusa e Pantelleria, il Parco archeologico di Catania e della Valle dell'ACI. Cambiamo ancora argomento perché sono arrivati alla firma del Ministero dell'Ambiente Sergio Costa i progetti per nuove attività di ricerca di idrocarburi nel territorio di Gela. Si tratta di permessi passo di piazza e friddani. Enimè dà in programma un vasto programma di prospezione per sondare l'eventuale presenza di idrocarburi nel settosuolo sottosuolo genese. Il progetto è ormai alla firma del Ministro dell'Ambiente, manca solo l'ultimo passaggio con la sigla del Ministro Sergio Costa per dare la via libera ad una vasta campagna di ricerca di idrocarburi che tocca anche aree locali e si estende fino ai territori delle province di Ragusa, Catania e Enna. Enimè dà in programma di sondare l'eventuale presenza di condizioni per avviare una nuova fase di produzione qualora dalle attività di ricerca emergesse l'effettiva presenza di idrocarburi. La procedura che si appresta alla conclusione riguarda i permessi di ricerca passo di piazze e freddani, anche la valutazione di impatto ambientale ha superato le verifiche dei tecnici ministeriali. Il programma lavori prevede esclusivamente la realizzazione di una campagna di acquisizione geofisica volta all'individuazione di strutture geologiche profonde potenzialmente in grado di contenere idrocarburi economicamente sfruttabili, così si legge nelle carte della procedura. Verranno utilizzate sorgenti di energizzazione del tipo vibrosis, massa battente ed esplosivo. Così si legge appunto nella documentazione della lunga procedura attivata all'amministero a guida grillina. Enimèd vuole ampliare il bacino delle attività anche se non sono mancate le osservazioni di enti locali e associazioni ambientaliste. Il comune di Gela, a differenza di altre amministrazioni locali toccate dalle attività di ricerca, non ha mai invece avanzato osservazioni. Tra i meno convinti ci sono i rappresentanti della riserva orientata a viviere che hanno formalizzato osservazioni come fatto anche da Legambiente. Nelle relazioni si fa riferimento all'assenza di qualsiasi indicazione in merito al piano di gestione e a quello di risanamento. Queste attività, come accaduto in altri siti già avviati sul territorio da Enimèd, secondo le osservazioni andrebbero ad incidere su aree sensibili dove si sono verificati diversi sversamenti. Le scelte dell'azienda sarebbero quindi in controtendenza con la nuova strategia green. Tutti aspetti che i tecnici del Ministero e quelli di Eni ritengono però superati, facendo riferimento al rispetto della normativa che regola le procedure. Ora si attende solo la firma di costa. Dal porto Isola Ene fino al tratto prospicente il porto rifugio, sempre off limits, causa insabbiamento. Nonostante le restrizioni anti-covid, anche quest'anno l'agente di mare ha reso onore al San Francesco di Paola. C'erano tutte le istituzioni e una rappresentanza della politica locale. Non sono mancati gli esponenti del comitato pro porto, i marinai ed i pescatori. Dal comitato arriva l'ennesimo appello rivolto anche al prefetto Cosima di Stani presente alla celebrazione. Aspettiamo il miracolo del porto fruibile, hanno fatto sapere gli esponenti del comitato, che nelle ultime settimane hanno platialmente contestato anche il definanziamento del progetto della darsena commerciale. Ogni anno si susseguono appelli a superare la stasi di un sito portuale bloccato. Ad oggi neanche gli operatori riescono ad accedere. E adesso parliamo ancora della GELAS, la cosiddetta cabina di progettazione, perché l'amministrazione comunale vorrebbe concentrare una cabina di erogia di progettazione nella struttura di GELAS, la multiservizi partecipata dell'ente. C'è l'ipotesi di affidare anche altre attività. L'amministratore Francesco Traenito si è rivolto ad un legale esperto in batteria di partecipate. Verrà valutato se lo statuto consenta soluzioni di questo tipo. Nei piani potenziali dell'amministrazione comunale la multiservizi GELAS potrebbe giocare un ruolo molto importante ad iniziare dalla previsione di una cabina di regia unica per la progettazione, uno dei tanti talloni d'archille della macchina burocratica del municipio. Diversi mesi fa il sindaco Lucio Greco e il suo consulente Pietro Inferrera davanti ai consiglieri di maggioranza hanno illustrato la strategia che dovrebbe passare proprio da GELAS e dalla cabina unica per la progettazione l'amministratore Francesco Traenito ha anche fatto pubblicare un avviso raccogliendo la disponibilità di oltre 100 professionisti locali. Il progetto non si è ancora concretizzato anche perché oltre ai dubbi che si sono registrati in una frangia della maggioranza del sindaco bisogna valutarne la fattibilità a partire dallo statuto della società in house. Negli scorsi giorni Traenito ha affidato un incarico all'avvocato catanese Agatino Cariola, docente universitario ed esperto di diritto amministrativo, avrà il compito di rilasciare un parere proveritate così da dare indicazioni giuridicamente certe sulla possibilità per GELAS di guardare alla cabina di progettazione. Il parere Traenito ha deciso di chiederlo non solo per la questione della cabina di progettazione ma anche rispetto ad altri servizi. C'è infatti la possibilità che GELAS venga individuata per occuparsi della definizione delle pratiche di sanatoria edilizia visto che l'affidamento del servizio sta andando verso la scadenza. Con il parere quindi sarà possibile capire meglio se ci siano spazi anche per attività di questo tipo. Ormai il feeling istituzionale tra Greco e Traenito pare definitivamente consolidato dopo i toni duri dell'avvocato nella fase immediatamente successiva al lockdown. Chiudiamo con notizie di sport. Maurizio Nassi, il bomber di Taormina, riparte dai giovani. Lo fa con un progetto calcistico che diventa un connubio tra amo, gela e dorica calcio che insieme diventano semplicemente amo, gela, dorica. Quartier generale della società sarà il campo di via Enrico Mattei, l'ex punto Juve in cui sono cresciute diverse generazioni di piccoli calciatori gelesi. Proprio questo legame con il passato di affiliazione alla società bianconera con i colori sociali saranno il bianco e nero. Il presidente dell'amo gela sarà Maurizio Nassi che dopo tanti anni di gol è in giro per l'Italia con tanti successi passando anche dalla Serie A. Sarà il vertice di questo nuovo sodalizio sportivo. Il ruolo di editor generale invece sarà ricoperto da Felice Mezzasalma, anche passato dietro la scrivania dopo aver giocato tanti anni nelle squadre gelesi. Responsabili invece della scuola calcio saranno Cristian Maddiona che ha fondato appunto a inizio carriera l'amo gela, la dorica gela con grande impegno e passione. E con questa notizia di calcio è tutto per questa edizione. Se volete rivedere i nostri servizi li troverete su nostri canali social, YouTube e Facebook. Noi ci rivediamo domani. Noi ci rivediamo domani. Noi ci rivediamo. Grazie a tutti